Ciao Max, siamo qui per provare la Grazioli Mv6 14165, anche se non sarà una prova troppo indicativa perché siamo vicini, però proviamola sulle varie bande e vediamo che cosa succede. Mi ascolti bene? A te? Sì, ciao Stefano. Sì, ciao Stefano, 0.4 KHz, U4 Gener, guarda il segnale è buono, considerando che siamo abbastanza vicini, ma c'è una collina che ci separa, per me sei un 5.7 e penso tu stia andando con la potenza dell'apparato. Sì, sì, io sto andando con la potenza dell'apparato, assolutamente. Sì, sì, io sto andando con la potenza dell'apparato, assolutamente. Ok, perfetto, vogliamo cambiare banda? Ok, facciamo PSG nell'altra banda e vediamo se ci ascoltiamo. Ok, voglio andare in 17, quindi 18, 150. Ok, PSG 18, 150. Ok, PSG 18, 150. portata. Italia Zulu 4 Zulu KHz, per Italia Uniform 4 Gener, mi ascolti Max? Sì, ciao Stefano, buonasera. Anche su questa arrivi molto bene qua, 5.8, è molto chiara la modulazione. Purtroppo c'è una stazione americana su questa, quindi saremmo brevissimi per fare questa prova. Se tu sei d'accordo direi di andare direttamente in 15 metri a 21.245. Sì, sono d'accordo. PSG 21.245. Sì, sono d'accordo. PSG 21.245. Italia Zulu 4 Zulu KHz, per U4 Gener, mi senti Max? Italia Zulu 4 Zulu KHz, per U4 Gener, mi senti Max? Sì, sono perfetto. Mi arrivi con un bel S9, arrivi molto bene, molto chiaro. Anche qui in 15 metri, complimenti. Se sei d'accordo facciamo PSG 24.930. Sì, d'accordo, 24.930, PSG. Sì, d'accordo, 24.930, PSG. PSG 12 metri. Ok, Italia Zulu 4 Zulu KHz, per U4 Gener, anche qui 1.1 di Ross, Max te lo confermo. 1.1 di Ross, Max te lo confermo. Prima non avevo il meter indicato su SVR, però comunque è 21.24.930, perfettamente 1.1 di Strazionali, a te. Sì, arrivi molto bene, per un attimo abbiamo parlato insieme. Arrivi molto bene anche su questa, Stefano, un S9, ma adesso poi comunque lo rivederò al prossimo passaggio. Quindi, se sei d'accordo, PSG in 10, proviamo anche 10, 28.360. D'accordo, PSG 28.360. D'accordo, PSG 28.360. PSG 28.360, su questa. E Zulu 4 Zulu KHz, U4 Gener. perfetto mi arrivi molto molto forte anche tu perfetto mi arrivi molto molto forte anche tu qua italia 040 kx e mi fai 920 a te max benissimo stefano io sono andato con un po di potenza e sono circa 450 watt in questo momento e comunque anche tu mi arrivi molto bene quindi non ci sono assolutamente problemi per ascoltarci l'antenna fa veramente questo dovere se sei d'accordo vorrei provare anche in se metri a 50 150 tanto a quest'ora la propagazione dovrebbe essere abbastanza chiusa certo sono curioso 50 150 questi greca certo sono curioso 50 150 questi greca questo è greca se non ci dovessimo ascoltare ci ascoltiamo ritorniamo su questa ok perfetto vediamo se possiamo ascoltarci sarebbe bello italia 040 kx per iu4 gnr mi senti max sì sì mi fai un 4 4 di segnale però ti ascolto perfettamente meraviglioso in 50 riuscire a sentirci fantastico sì sì mi fai un 4 o un 4 di segnale però ti ascolto perfettamente meraviglioso in 50 riuscire a sentirci fantastico ok stai in vai un attimo ok no era avevo disabilitato l'amplificatore per i 6 metri ecco dovresti ascoltarmi meglio adesso sono con circa 350 watt stefano per te 040 kx e u4 gnr così ti do il rapporto sì qui mi fai un 9 spaccato sei cresciuto mostruosamente mi dirai poi se mi ascolti e con quale segnale a te sì qui mi fai un 9 spaccato sei cresciuto mostruosamente mi dirai poi se mi ascolti e con quale segnale a te sì perfetto allora ti ascolto con un s7 qui su questa stefano comunque ti ascolto molto chiaro la frequenza molto pulita bene stefano sono contento l'antenna ti funziona molto bene fatto un buon montaggio evidentemente ciao 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 ciao